DJ LOD è un'iniziativa che Ascotrade sta portando avanti da due anni, è un'iniziativa di gruppo, il gruppo l'ha attivata ben sette anni fa, vuole essere con questa iniziativa vicino alle scuole, insegnando quelli che sono i comportamenti digitali, promuovendoli nei nostri clienti e di conseguenza trasferendoli ai giovani di oggi che un giorno poi saranno gli utenti energetici del futuro. L'ambiente è al centro delle nostre iniziative, noi non solo vendiamo gas e energia elettrica, ma proponiamo soluzioni sostenibili come caldaie, impianti fotovoltaici, climatizzatori, tutte soluzioni ad alta efficienza che mirano ad abbattere i consumi e quindi a migliorare l'impatto energetico dei nostri utenti nei confronti dell'ambiente. La sensibilità dei giovani nei confronti dell'ambiente è spiccatissima, lo stiamo riscontrando da sempre, da tempo e quindi investire ancora di più in questa direzione ci dà entusiasmo, ci dà orgoglio, è importante che i messaggi di uso consapevole di risorse siano centrali nella nostra comunicazione in modo tale che i giovani d'oggi già inizino ad avere questi comportamenti efficienti per poi diventare nel futuro gli utenti di domani e a mantenere queste buone abitudini.